Proseguono le indagini per identificare il commando di malviventi che ieri pomeriggio ha messo segno una spettacolare rapina all'agenzia di case finale alla periferia di Cesena della Cassa di Risparmio di Cesena. Erano circa le 16 quando un SUV Nissan Patrol, lanciato in velocità, ha centrato la vetrata e la porta d'accesso dell'istituto di credito. Ci sono voluti tre tentativi da parte del mezzo utilizzato come riete, ma alla fine anche il vetro blindato ha ceduto, mentre i quattro dipendenti della banca fuggivano da una porta laterale. Dal SUV semisfasciato sono scesi due individui travestiti da operai che dalle casse dell'ufficio ormai deserto, tralasciando le cassaforti ancora chiuse, hanno preso tutto il denaro contante, quanto pare attorno ai 35.000 euro, per poi uscire e salire a bordo di una fia tipo bianca con al volante un terzo complice. Il terzetto a questo punto si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. In tutto il colpo è durato meno di tre minuti. I rapinatori hanno poi abbandonato la Fiat Tipo in una strada senza uscita a poche centinaia di metri dalla banca. Da lì parte una pista ciclabile che porta alla vicina via Emilia, dove, secondo le forze dell'ordine, ad aspettarli c'era un quarto complice, questa volta al volante di un'auto pulita. Una rapina condotta con metodo professionale, dunque di certo studiata a tavolino, è programmata con precisione, come dimostra il particolare del furto del SUV avvenuto alcuni giorni fa a Cervia, seguito lunedì scorso dal furto della Fiat Tipo Bianca. Sul caso indagano i carabinieri che hanno a loro disposizione i nastri delle telecamere a circuito chiuso della banca.